No, per me è uno dei migliori di Landog di sempre, è proprio il 409, Manacerace, Ritorno al Buio, questa trilogia in cui è ritornato il cattivo Manacerace, l'uomo del buio, lo scrittore Chiaverotti, il disegnatore Dall'Agnolo con l'aiuto di Cattani, ma una storia fantastica, disegnata proprio benissimo da Dio, guarda qua, disegni molto semplici, ma espliciti, belli, bei dialoghi, belle situazioni splatterose, grande, 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 uno dei migliori di Landog di sempre, e secondo me anche il secondo capitolo sarà fantastico, e il terzo, il gran finale, sì, di Landog, il secondo episodio sarà questo, sì, la notte eterna, e poi ci sarà il terzo, di Landog, di Landog, di Landog, di Landog, è con lui. Grazie.